La relazione fa sempre la differenza, se supportata dalla tecnologia. Gli spazi e gli strumenti digitali possono incidere sulla creazione di team dinamici e sull'idea del domani, soprattutto in un momento storico in cui lo smart working può trasformarsi in opportunità. Con il progetto MAG, Magazzini Generativi, abbiamo voluto costruire una community sulla base di una filosofia ben precisa. Emil Bank vuole restituire a Bologna e all'Emilia-Romagna uno spazio storico che rischiava di restare inutilizzato e diventa invece un punto di incontro fra start-up, banca e imprese. Altro punto fondamentale per noi è l'innovability, ovvero l'unione fra sostenibilità e innovazione. Per questo abbiamo trovato un partner ideale in Ben Sistemi, il player tecnologico del progetto. MAG è un edificio di nuova concezione che a me piace definire un erogatore di servizi digitali, ma anche un ambiente in grado di raccogliere informazioni digitali dai suoi fruitori per migliorare costantemente questi servizi. Possiamo quindi definire MAG uno smart hub. MAG non è solo un edificio, MAG è una community, MAG è un insieme di relazioni, ma che vede nell'edificio il suo polo magnetico, la sua agora. Vem ha realizzato tutta la tecnologia digitale all'interno di MAG, dal design all'implementazione. La rete Cisco Meraki, per esempio, che è il backbone sul quale tutte le tecnologie all'interno di MAG si integrano e si appoggiano. Una rete intrinsecamente sicura, in grado di consentire l'accesso ai clienti e di profilarli in modo totalmente automatizzato grazie alla tecnologia Cisco ISE. Sulla rete si appoggiano quindi la videosorveglianza, il controllo accessi, i sistemi di controllo del clima e dell'illuminazione, ma anche una rete di sensori innovativi che sono in grado, attraverso la computer vision, di calcolare in tempo reale il numero di persone che è presente all'interno degli ambienti di MAG. Il fiore all'occhialo di MAG è l'auditorium. Nell'auditorium sono presenti tecnologie di collaboration Cisco particolarmente avanzate, che consentono, attraverso l'integrazione dei sistemi stessi con gli scenari luminosi e la parte multimediale, di realizzare eventi coinvolgenti in cui il relatore è in grado di gestire in modo completamente automatizzato anche tutte le componenti di regia. Tutta la tecnologia è ospitata all'interno di sistemi Schneider Electric e gli scenari luminosi sono governati da un sistema Signify che vede integrati sistemi più tradizionali basati su controllori e protocolli DALI, con corpi illuminanti di nuova concezione ed estremamente innovativi totalmente power over Ethernet. Lo stesso sistema di cablaggio è stato scelto accuratamente. Abbiamo lavorato con Panduit, che ha progettato in co-design con Cisco e Signify un sistema di cablaggio pensato perché questo tipo di soluzioni possano erogare servizi con altissime performance e in totale sicurezza. Insomma, tanta tecnologia, che delle volte possa ottenere anche tanta complessità, ma l'obiettivo di VEM è rendere semplice la tecnologia agli utenti e quindi abbiamo realizzato una piattaforma digitale, usufruibile attraverso un'app mobile, con la quale gli utenti possono interagire direttamente in modo estremamente semplificato con la tecnologia dal palmo della propria mano. Siamo orgogliosi di un progetto che possiamo definire davvero completo, un bel esempio della nostra evoluzione in Augmented System Integrator.